Amici carissimi, Questa puntata di Duc in Altum vive, è logico, ancora in me, non solo in me, ma penso anche in molti forlivesi come ricordo della settimana che abbiamo trascorso alla luce della festa della Madonna del Fuoco. E volevo proprio partire con un'immagine della cattedrale, ecco qui, della gente che è venuta e che ha seguito quella devozione che dal 1428 segna la storia della vita dei forlivesi, storia cristiana. Dico storia perché dalla notte dell'incendio si è arrivati poi pian piano a uno sviluppo delle opere impergnate sulla figura della Madonna del Fuoco che è stata portata all'incattedrale dove è rimasta fino al 1600, quando poi i forlivesi decisero di fare quello che oggi si chiama Cappella della Madonna del Fuoco Voi sapete cosa vuol dire, ma che cosa voglio dirvi che non entrava nella mia preparazione di stamattina che questa immagine che questa immagine ha segnato e sta segnando la vita di Forlì nell'intimo del cuore dei forlivesi. Ecco, io ho questa sensazione, anche perché sono stato diverse ore ogni giorno in confessionale, dico che questa festa non è semplicemente un ricordo di un fatto del passato, ma è un momento di vita non solo cristiana nel senso religioso, ma cristiana nel senso sociale. E questo lo dico mentre il giornale e i giornali parlano di un discorso del Papa, eccolo qui, che io lo metto proprio perché condivido pienamente l'impostazione positiva che il Papa sta dando ai giorni di oggi. Venendo da una settimana come quella della Madonna del Fuoco, io non posso agganciarmi a motivi di negatività e dico che il Papa nelle sue presentazioni non solo dottrinali al mercoledì con tanta gente, ecco, ma nel suo ragionare con i giornalisti, fa capire che non vale la pena essere tristi, che non vale la pena mettersi sulla strada della lamentela e battere solo quella. Guardate, questa foto qui che vedete è quella ripresa durante gli esercizi spirituali che il Papa ha fatto ad Ariccia assieme ai suoi più vicini collaboratori. Ed è interessante dire che mentre il titolo del giornale dice che il Papa ha accettato la corruzione in Vaticano, c'è corruzione, dice, ma non perdo la mia serenità. E poi tira fuori un episodio che è sintomatico perché sul quale, secondo me, non bisogna scherzarci, ma bisogna andare alla motivazione. E lui dice che quando ci sono dei casi particolari che lo fanno soffrire, scrive un biglietto a San Giuseppe e glielo mette sotto la statua che ha lì nel suo studio, ma questo per me non è un atto infantile. Secondo me questo qui è un atto di alta fede che fa capire come la vita dei Santi, non solo della Madonna, ma dei Santi e la vita della Chiesa sia un tutt'uno, sia una realtà partecipata. Comunque chissà che non capiti un'altra occasione nella quale dirvi perché io sostengo che il modo col quale il Papa si presenta e continua a presentarsi sia il regalo più bello che Dio sta facendo alla sua Chiesa oggi e qui. In questi tempi così turbulenti, questi tempi così massacranti, l'umanità. Allora, ecco, sì c'è corruzione in Vaticano, c'è scritto qua e Chip me lo lascia ancora, io dico adesso di toglierlo e non mi importa che ci siano anche di queste pause di negatività. Sta di fatto però che esiste un discorso di continuità e di positività sul quale dobbiamo inserire la nostra vita. Io questa settimana sono proprio molto contento perché non poteva, secondo me, ecco, la festa della Madonna del Fuoco, quindi tutta la settimana, essere così positiva, non poteva essere di più di quello che lo è stato. Non solo per la frequenza dei sacerdoti, per la partecipazione. E poi c'ho anche un esempio che adesso vi do fra un pochino. Abbiamo avuto diversi vescovi che sono venuti a celebrare ed è logico che non poteva mancare l'ultimo nostro vescovo Ciovedo Nerio, il quale è venuto in Duomo alla sera alle otto e mezzo, un Duomo pieno, strapieno, perché era evidente che la sua voce ancora chiama e chiama con convinzione le persone ad ascoltarlo. E allora cosa ha fatto? Ha fatto otto minuti di omelia. Allora sapete che cose io vi faccio adesso? Vi li rifilo tutti otto così come sono venuti fuori perché non solo possiate riascoltare in casa l'insegnamento che lui ha dato e le riflessioni che partono appunto dal Calvario per arrivare alla festa del giorno e arrivare così a capire che i messaggi di una festa come quella della Madonna del Fuoco vanno ripresi. Poi su questo fatto della continuità vi dirò anche qualcosa sull'insegnamento che ci ha lasciato Monsignor Bressan. Allora adesso dico al regista per favore che vi metta in onda l'omelia che alle 20.30 del 4 febbraio Donerio ha fatto in Duomo voi seguitela per favore perché è molto semplice, lineare, ma sono otto minuti che sono secondo me un bel regalo che Donerio fa a tutti i forlivesi a seguito del bel risultato della settimana dedicata alla Madonna del Fuoco. Regista, vai! Stavano presso la croce di Gesù, così inizia il Vangelo, stavano, stavano in piedi significa, stavano Maria, altre donne e il discepolo che Gesù amava, in silenzio. Ma c'erano tanti assenti, molti non stavano nei pressi del Calvario, molti non stavano davanti alla croce di Gesù. Tanti erano indifferenti perché erano giorni di festa, c'era confusione a Gerusalemme, avevano i loro affari, i loro mercatini, c'era probabilmente anche tanta confusione attorno al Calvario e forse molti di quelli a cui Gesù aveva rivolto la parola nelle strade, nelle pianure, dal lago, erano lì, ma rimanevano indifferenti di fronte alla crocifissione. Si può rimanere indifferenti davanti alla croce, davanti alla croce di Dio, perché scandalizza un Dio così debole, impotente. Si vorrebbe sempre il miracolo, la prova. Davanti alla croce degli uomini si può rimanere indifferenti. Quanta gente non si fa toccare il cuore dalle miserie umane, dalle sofferenze, dalle fatiche. Poi avrebbero dovuto esserci anche altri, oltre al discepolo che Gesù amava, almeno un'altra decina. Giuda era già fuggito, ma altri dieci potevano essere lì. Erano scappati, erano rimasti lontano per la paura, perché la croce fa paura. Fa paura un Dio in croce, perché non si capiscono bene i Suoi disegni, non si riesce a decifrare sempre la Sua volontà. A volte lascia accadere delle cose che volentieri noi non vivremmo, altre volte invece non ci concede quelle grazie che sarebbe logico concedere. Fanno paura anche le croci degli uomini. Molta gente, forse ciascuno di noi a volte, fugge dalla croce, non riesce a sopportare neanche la vista della malattia, della povertà, della miseria. Un'altra categoria stava vicino alla croce di Gesù, ma non stava in piedi e non stava in silenzio. Erano i soldati. Nella scena precedente, Giovanni dice che i soldati tiravano a sorte la veste di Gesù, giocavano a dadi, probabilmente si divertivano, facevano un po' di confusione, stavano sfruttando quel momento. In fondo è una piccola ricchezza avere una veste bella. Perché davanti alla croce c'è anche chi deride. Davanti a un Dio che va a finire in croce c'è chi alza le spalle, fa una smorfia, sorride. Un Dio così per molti non vale la pena di essere nemmeno preso in considerazione. Ma anche davanti alla croce degli uomini c'è chi si diverte, chi sfrutta. Ed è una delle situazioni più disumane che accadono sulla terra, sfruttare la sofferenza. Se non ci fosse questo sfruttamento della sofferenza non ci sarebbe più il dramma della fame, della sete, il dramma delle guerre. Non ci sarebbero più gli attentati alla vita, la violenza, le guerre. Dunque non tutti stanno in piedi e in silenzio di fronte alla croce di Gesù. Chi ci sta? Maria e alcune donne, il discepolo amato. E Gesù prende proprio la madre e il discepolo amato come punti di riferimento per avviare lui il dialogo, è lui che rompe il silenzio. Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Ma chi sono questa donna e questo figlio sono l'immagine stessa del discepolo, di chi riesce a stare sotto la croce di Gesù in un silenzio rispettoso e adorante. Maria è stata la prima e più grande discepola di Gesù. lei che ha vissuto come non è possibile ad altri un rapporto intimo con Gesù, gli ha dato il suo sangue, lo ha educato. Lei è diventata subito discepola di Gesù, si è messa alla sua scuola. Lei che lo ha amato come nessun altro. e il discepolo che Gesù amava, che è probabilmente l'Evangelista stesso, Giovanni, ma lui non ci dice mai il nome, perché quel nome è il nome di ciascuno di noi. Ciascuno di noi è il discepolo amato. Se ha la percezione dell'amore di Gesù, se vive il rapporto col Signore è come un rapporto non di giudizio, non un rapporto fatto semplicemente di regole, neanche un patto reciproco, ma un amore, un affetto grande. Perché possiamo stare in piedi, sotto la croce, solamente se siamo ripieni dell'amore di Dio. Dio è amore, ci ha detto Giovanni nella seconda lettura. non ha detto Dio è legge, non ha detto Dio è un grande ragioniere, ha detto che Dio è amore. Le regole ci vogliono, certo, ci vogliono anche le leggi, ma dentro un rapporto d'amore, solamente chi ha scoperto un Dio che è amore può stare sotto la croce, altrimenti facilmente è indifferente, ha paura e sfrutta. Maria, ci aiuti, la Beata Vergine del Fuoco, a tenere sempre acceso il fuoco dell'amore. Non c'è scritto da nessuna parte che chi crede vivrà con meno problemi. Non è un'assicurazione sulla vita, la fede. Si attraversano le stesse fatiche, le stesse gioie. La strada è la stessa di chi non crede, ma cambia il cuore, perché c'è un fuoco acceso nel cuore e allora cambia tutto. E allora non c'è più la parola disperazione, perché ci si rende conto che anche quando ci si trova sotto la croce il Signore c'è, c'è un'opportunità, c'è una grazia. Chiediamo a Maria che ci aiuti a tenere acceso questo fuoco che abbiamo nel cuore. Ecco, avete ascoltato allora l'Omelia, otto minuti, che Don Erio, vescovo di Modena, non Antola, ci ha dato, ci ha regalato il giorno della Madonna del Fuoco. Secondo me, se avete modo di registrarla e di riascoltarla, vale la pena, perché nella sua semplicità, linearità, dà però il motivo dell'approfondimento teologico, non solo con la partenza della crocifissione, con la Madonna che stava assieme a Giovanni ai piedi della croce, ma anche proprio tutto quel necessario riferimento all'oggi che deve dare tono alla vita cristiana. Adesso, concludendo questa puntata, cosa vi faccio vedere? Ecco qua. E non è mai successo prima che il predicatore della settimana lasciasse scritte le proprie omelie. Bene, 1500 fascicoli sono stati fatti e quasi tutti distribuiti, però qualcuno ancora ce l'ho. Se qualcuno non lo avesse avuto, perché insisto sul fatto? Il titolo ha un po' sbalordito, perché il titolo di queste omelie di Monsignor Bressan, predicatore della novena della Madonna del Fuoco, è intitolato Maria, madre dell'incontro per la vita. È interessante questo aggancio, non semplicemente devozionale, ma dell'impegno che tutto quello che noi viviamo in chiesa deve essere capace di smuovere, di dare carica, di dare sensibilità e impegno alla vita, l'incontro per la vita. Allora, chi vuole ancora qualcuno le ho, finché le ho io le distribuisco in cattedrale, però l'importante è che chi già ce l'ha vada non a leggere da capo a fondo, ma a meditare pian piano quei concetti che Monsignor Bressan ci ha donato per far sì che il ricordo di un evento del passato 1428 non rimanga attaccato ad un'immagine xilografica e legato al tempo, ma sia oggi più che mai un incentivo a vivere serenamente, a vivere con gioia, a vivere con stile del Papa il Vangelo nella situazione concreta di una città e di una società che per molti versi va a rotoli, ma che però profondamente illuminata sempre dall'amore di Dio e della Chiesa. Grazie, vi saluto e se volete finché ne ho in cattedrale distribuisco ancora il testo delle omelie di Monsignor Bressan. Grazie, vi saluto e alla prossima! Grazie a tutti!